Buonasera, siamo di nuovo a Mondolfo per la seconda volta. Abbiamo visto la spaghettata la settimana scorsa, oggi siamo qui per un'altra manifestazione che riguarda invece l'ambiente. Ce ne parla molto più specificamente Massimiliano Lucchetti che è l'assessore al Comune di Mondolfo? Sì, buona giornata. La settimana mondiale della terra ha iniziato già il 18 di aprile e terminerà il 24 di aprile. È una settimana in cui noi parliamo di sostenibilità ambientale e come lo facciamo? Lo facciamo con degli appuntamenti che ogni sera dal 18 in avanti ci sono degli appuntamenti che riguardano la musica, mostre fotografiche, convegni a tema. Per esempio, ieri abbiamo fatto un'interessantissima conferenza sulla sostenibilità in mare. Domani faremo una conferenza relativa al dissesto idrogeologico. Poi ci saranno due conferenze per quel che riguarda la raccolta differenziata. Insomma, si riparla un po' d'ambiente che l'obiettivo dell'amministrazione è quello di far crescere la coscienza ambientale nei nostri cittadini. Lo stiamo facendo perché abbiamo degli ottimi risultati per quel che riguarda la raccolta differenziata. Abbiamo portato qui anche una balla di materiale differenziato per dimostrare i risultati che stiamo portando avanti. E speriamo che è l'occasione ancora di parlare d'ambiente con i nostri concittadini. Quindi, parlando di fotografia, chi sono gli artisti che hanno esposto queste fotografie? Sì, la mostra fotografica che rappresenta un po' il territorio del Comune di Mondolfo è stata organizzata, è stata realizzata dal gruppo fotografico Primo Piano, di cui c'è un rappresentante che ha organizzato e cura anche la mostra che è Enrico Morbidelli di Marotta. E rappresenta un po' degli scorci del nostro territorio, sempre sviluppando lo stesso delle tematiche ambientali e avremo occasione anche di rivederla quest'estate via le Carducci a Marotta dove saranno esposte di nuovo. Ok, quindi oltre a questo dacci anche un po' il programma di tutte le successive giornate. Sì, in linea di massima, come dicevo, domani c'è un'interessantissima conferenza che riguarda il dissesto idrogeologico. Dopo domani ci sarà una giornata invece che riguarda la raccolta differenziata, ci sarà un rappresentante della Corepla che si chiama Massimo Di Molfetta, che viene da Milano e ci aiuterà a capire come differenziare bene la plastica. Poi mercoledì un'altra giornata che è dedicata più che altro alla musica e ci saranno anche lì delle danze e dei canti della terra. Invece giovedì è una giornata dedicata alle scuole in cui tutte le scuole sono chiamate a partecipare in cui ripasseremo un po' come fare correttamente la raccolta differenziata. Poi giovedì, giovedì venerdì, venerdì 24, ci sarà la serata conclusiva in cui lo stesso ci saranno dei gruppi che ci alletteranno con la loro musica. Comunque il tema importante diciamo è sempre l'ambiente. L'ambiente è il... diciamo, cerchiamo di sviluppare questa coscienza ambientale. Difatti è una settimana della terra che va dal 18 al 24. L'Earth Day, che sarebbe la giornata della terra in cui in 170 paesi di tutto il mondo viene festeggiata la terra e vengono riportati problemi ambientali in tutto il mondo, è il 22 di aprile. Noi siamo a cavallo dal 18 al 24, noi facciamo una settimana. L'Earth Day è una giornata e in 170 paesi di tutto il mondo viene celebrata. Ok, grazie e auguri per la bellissima manifestazione. Facciamo un giro e facciamo un bel articolo. Grazie. Grazie mille a voi.